se siete già iscritti al nostro canale o state per iscrivervi non dimenticate di premere il campanellino vicino al tasto di iscrizione in questo modo attiverete le notifiche per non perdere nessuna delle novità del nostro canale quante volte vi capita di desiderare di essere invisibili o di poter passare del tutto inosservati se proprio volete imparare come fare prendete lezioni da loro i geni della mimetizzazione gli animali invisibili che potreste non vedere affatto pur avendoli a pochi centimetri di distanza leutalia contea detta anche forfalla barone non è un animale capace di mimetizzarsi in età adulta sebbene i suoi colori siano decisamente sobri ma quando è ancora un bruco è praticamente invisibile il suo aspetto è del tutto identico a quello della nervatura centrale della foglia di mango pianta della quale si nutre e sulla quale vive duroplatus fantasticus o geco foglia è un geco endemico del madagascar questo straordinario animale notturno è capace di sfuggire ai predatori utilizzando non solo il suo mimetismo perfetto ma anche appiattendosi contro la superficie su cui è poggiato o lasciando cadere volontariamente la coda per far credere di essere davvero una foglia secca il filium gigantum detto anche insetto foglia verde o insetto foglia indiano è davvero difficile da distinguere dal fogliame vero le macchie che ricoprono il corpo di questi insetti le aiutano ancora di più nella mimetizzazione e aumentano con l'età dell'animale più l'insetto invecchia più il suo aspetto sembrerà quello di una foglia che sta rinsecchendo la sinanziaia verrucosa è un pesce comunemente conosciuto come pesce pietra e il pesce più velenoso al mondo e può essere letale per l'uomo vive sui fondali bassi del mar rosso e dell'oceano pacifico sfruttando al massimo il proprio aspetto per catturare pesci e crostacei che praticamente come gli stessi subacquei non riescono a distinguerlo dal fondale la misume navatia o ragno granchio è un ragno tomisida cioè un ragno che non fa la ragnatela ma caccia le proprie prede tra la vegetazione questa particolare specie lo fa appostandosi sui fiori sfruttando la sua omocromia prendendo cioè il colore del fiore sul quale si mette in attesa mimetizzandosi perfettamente la salpa maxima anche detta solo salpa è un taliaceo che si nutre di fitoplancton sebbene possa sembrare più una medusa è molto più simile ai mammiferi che ai pesci la sua trasparenza insieme all'abitudine di nuotare in fila indiana rendono difficile ai predatori la sua cattura quella degli orectolobida è una famiglia di squali comunemente conosciuti come squali tappeto il perché è semplice il loro aspetto li rende praticamente irriconoscibili quando si posano sui fondali la presenza di piccole screscenze simile a piccole coralli o gorgonie aumentano l'effetto mimetizzante ed il loro successo come predatori l'ippocampus bargibanti o cavalluccio marino pigmeo è un animaletto non più grande di due centimetri la pelle bianca e rossa copia perfettamente il colore della muricella ramosa un tipo di gorgonia abbastanza diffuso nel barriere coralline in cui questo cavalluccio vive perfettamente mimetizzato il bacillus rossius o insetto stecco europeo è uno degli appartenenti alla famiglia dei fasmidi somiglia incredibilmente ai ramoscelli tra i quali vive e di cui si nutre e se spaventato può irrigidirsi e cadere a terra fingendo di essere morto oppure oscillare insieme ai ramoscelli della pianta come se fosse mosso dal vento il taum octopus mimicus o polpo mimetico è in assoluto il re della mimetizzazione e del travestimento cambiando il proprio colore in pochi secondi e nascondendo parte del proprio corpo sotto la sabbia riesce a prendere le sembianze di anemoni rocce serpenti di mare o pesci leone in base al predatore che ha davanti cambia il suo aspetto per ottenere il risultato desiderato fateci sapere nei commenti quali di questi animali vi è stupito di più e non dimenticate di mettere un like se il video vi è piaciuto iscrivetevi al nostro canale e seguiteci sui social network trovate tutti i link qui sotto nella descrizione